L'analisi del giorno dopo è particolarmente interessante per questo turno, anche se ancora ovviamente mancano praticamente tutte le partite. C'è stato un sabato, quello di ieri, che ha detto tantissimo, ha detto e ha cambiato tantissimo. Ha cambiato tantissimo per il Milan, il Milan davvero c'è una primavera, secondo me che può essere una primavera di soddisfazioni per il Milan, ci arriviamo subito. E ha detto anche tanto per l'Inter, perché si è capito che l'Inter se vuole davvero arrivare a vincere lo Scudetto ha bisogno di qualcosina in più. Qualcosina in più non chissà che, però uno o due giocatori farebbero molto comodo. Il punto però è uno. Adesso che vi parlo è domenica mattina, l'Inter deve aspettare la partita di stasera Roma-Juventus, perché gli scenari che usciranno fuori da questa partita saranno totalmente diversi. Ve lo spiego. La Juventus vince. La Juventus vince e allora diventa campione d'inverno, con otto Scudetti vinti alle spalle. Beh, non è una fuga, chiaramente non lo è, però da parte interista ci sarebbe un po' di qualche timore, perché la Juve potrebbe pensare di andarsene e di fuggire. Cioè la vittoria della Juve darebbe un segnale fortissimo al campionato. Roma e Juventus pareggiano. In questo caso sarebbe stato e sarebbe considerato il turno della Lazio, perché a quel punto la Lazio potenzialmente ha un punto, quindi è completamente, assolutamente fra le favorite nel trio. Praticamente non è più Inter-Juventus, ma è un trio, Inter-Juventus e Lazio. E non dimentichiamo che la Lazio ha fatto dieci vittorie consecutive, ma anche prima di queste dieci vittorie consecutive non è che avesse giocato male. Cioè la Lazio è una squadra che, come società, come squadra, negli ultimi anni, è sempre stata terza, quarta, seconda, quinta, seconda, terza. Cioè è sempre stata là, lassù. Quindi la struttura ce l'ha tutta. Questo, se Roma e Juventus pareggiano, a quel punto sia Inter che Juventus, beh, ma al comune mezzo Gaudio, bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, si va. Ma la Roma vince. Quindi la Roma vince. Questo aprirebbe scenari ancora più interessanti a livello di campionato. Io sono interista, è ovvio, che a me farebbe piacere, è ovvio. Ma a prescindere da questo, aprirebbe due interessanti scenari. Primo, l'Inter sarebbe campione d'inverno. Dopo tanto tempo l'Inter si ritroverebbe di nuovo a essere campione d'inverno. Dopo tanto tempo la Juve sarebbe davvero a inseguire qualcosa o qualcuno. e sarebbe interessante, sarebbe davvero interessante vedere il contraccolpo, capire il contraccolpo per la Juventus, se perde, se perde. Sono scenari. Ma il punto più delicato, più succulento, più suggestivo, sarebbe una Roma a sette punti dall'Inter e a sei punti dalla Juventus. Stiamo attenti, noi sappiamo, noi che osserviamo il calcio sappiamo, che la Roma difficilmente entrerà nella corsa Scudetto, però è bello, sarebbe bello, mi piacerebbe tantissimo vedere un grande popolo di tifosi, che è quello il popolo dei tifosi romanisti, così come quello dei tifosi laziali, essere coinvolti nella speranza di vincerlo Scudetto. Sarebbe davvero interessante, sarebbe davvero interessante l'attenzione su questo campionato, che già è alta, sarebbe ancora più alta. Cioè avere quattro squadre, le due squadre di Roma, più l'Inter e la Juventus a lottare per lo Scudetto, partita per partita, domenica per domenica, sarebbe tantissima roba, sarebbe tantissima, tantissima roba. A secondo di questi tre scenari, il pareggio di ieri dell'Inter assumerebbe un diverso significato. Vince la Juventus, quel pareggio per l'Inter sono due punti persi. Pareggia la Juventus, quel pareggio è, va bene, comunque sia, siamo arrivati alla fine delle 19 giornate in testa, e quindi bene o male. Vince la Roma, appunto quel pareggio e quella parata di Andanovic, allo novantesimo, all'ottantanovesimo, sarebbe un regalo quasi, quasi una conquista a quel punto in più. È importante, davvero importante per l'Inter, spontanea, vedere e capire cosa uscirà da questo Roma-Juventus, è davvero importante. Oltretutto l'Atalanta, e questo è un altro punto, piccolissimo punto, l'Atalanta rallenta, questo per la lotta per il quarto posto, quindi la Roma è lì, la Roma ha i suoi obiettivi, e l'obiettivo della Roma è arrivare fra le prime quattro, se non qualcosina in più, se davvero ce l'esplua. Il fatto che l'Atalanta abbia rallentato, dice anche tanto per il quarto posto, è bellissimo, questo campionato è bellissimo. E andiamo al Milan. Andiamo al Milan, e a questa primavera del Milan. Innanzitutto il Milan, se non sbaglio, nelle ultime 5 partite ha fatto 10 punti, sono tanti. Sono tanti perché la media di 2 punti significherebbe, adesso, oggi, stare a 38 punti. Stare a 38 punti significherebbe stare a dove è la Roma, o anche avanti alla Roma, 7 punti dall'Inter e dalla Juventus. Tanto per capire come è andata negli ultimi 5 turni il Milan. È vero, ha perso 5-0 con l'Atalanta, ma l'Atalanta sta dimostrando di essere uno squadrone, e quindi va bene, va bene. Ibrahimovic la scossa l'ha data? Non è che dopo Ibrahimovic ha dato la scossa, nel senso ha dato la scossa ai compagni. No, no, no. Secondo me Ibrahimovic è proprio una scossa di suo. Cioè è lui che è forte. Tutti che dicevano, e io ho sempre criticato questi commenti, o questa aspettativa, che Ibrahimovic arriva e dà gli schiaffoni in giro. No, ho sempre detto, non è compito di Ibrahimovic dare nessuno schiaffone in giro, oltretutto Ibrahimovic ha 38 anni, Ibrahimovic farà il suo. È forte, è assolutamente uno dei top player, all'età che ha, però storicamente è un top player, e continuerà ad esserlo. Quindi con i gol di Ibrahimovic, il Milan può andare in Europa? Sì, sì. Adesso il Milan si trova vicinissimo al sesto posto, e al settimo posto, anche se il Parma vince con Lecce, si troverebbe a tre punti, cioè poca cosa, sei là, sei là, te la stai giocando, c'è tutto un girone di ritorno. Quindi quel sesto e settimo posto, vi ricordo che il sesto posto, se una squadra che non arriva fra le prime sei, vince la Coppa Italia, il sesto posto significa preliminari di Europa League. Se una squadra delle prime cinque, vince la Coppa Italia, il sesto posto significa Europa League, e il settimo posto significa preliminari di Europa League. E questo è quello che succederà, probabilmente, o Juve, o Inter, Roma, Atalanta, qualcuno di questi, Lazio vincerà la Coppa, a meno che c'è pure il Napoli, però è probabile che il sesto e il settimo posto ti diano l'accesso in Europa. E il Milan dovrebbe prenderlo, quello. Io quel treno lì, al Milan, sinceramente, non vedo come... Può scappare, può scappare, perché il Milan è ancora un malato, per dire, ancora in convalescenza, però si sta risvegliando di brutto. Si sta risvegliando tantissimo, e non è che Ibrahimovic, lo ripeto ancora, sta dando la scossa ai compagni. Secondo me, Ibrahimovic sta dando qualche consiglio a Pioli, perché arrivare a questo punto della stagione, sul 4-4-2, quando hai giocato 4-3-3, male, 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 tutte le partite, non è che dovevi aspettare Ibrahimovic. Era questa, cioè metti il centrocampo con più densità, con più giocatori, e già al centrocampo ti può coprire la difesa, e già ti può anche... ti può dare più palloni in attacco. È paradossale, ma è così. Se sei tre giocatori sulla tua tre quarti, hai tre giocatori, che devono dare il pallone a tre giocatori, è una cosa. Se hai quattro giocatori sulla tua tre quarti, ti puoi passare più facilmente il pallone, e il pallone arriva più facilmente in attacco. Comunque, sono cose 4-4-2, 4-3-3. Il 4-4-2, secondo me, è la soluzione per questo Milan. C'è un mercato di gennaio. Il Milan cosa sta facendo? State attenti, c'è un punto fondamentale per tutti gli amici milanisti. Per tutti gli amici milanisti. Si è chiaro un punto, cioè si è chiaro nel senso deve essere chiaro a tutti noi, a tutti noi a cui piace il calcio. Qual è la situazione del Milan di bilancio? Vi spiego cosa sto dicendo. L'anno scorso il Milan si qualifica bellamente per l'Europa League, perché si qualifica al quinto posto, ma non va in Europa, perché dice no, facciamo così, ci facciamo, virgolette, anzi, ci facciamo punire per il fair play finanziario, quindi ci danno questa sanzione di non partecipare alle coppe e bruciamo alcuni anni del fair play finanziario. Questo non significa che si è uscito dal fair play finanziario. Assolutamente. Quelle regole si applicano a tutti. Quindi, la questione è plus valenza, minus valenza. Qual è quella del Milan? Io non la conosco benissimo adesso. Se il Milan si classifica, se il Milan riesce ad entrare in Europa, può portare quei bilanci per cui, per dire, ok, va bene, sono sotto giudizio, però non vengo sanzionato. Io credo di sì, io credo che la situazione sia un po' così e credo che questa uscita del Milan, specialmente Piontek, se Piontek ti fa fare un minimo di plus valenza, vendilo immediatamente, perché questo fattore è ancora più importante dei punti in classifica. Cioè, questo deve essere chiaro a tutti gli amici del Milan. Il punto del bilancio è più importante dei punti in classifica. Perché altrimenti non puoi fare nulla, non puoi fare nulla, anche se ti classifichi quarto in Champions e non ci vai. Che senso ha? Quindi, la prima cosa da fare è liberarsi da questi mattoni, mattoni in senso di queste plus valenze e minus valenze. Questo è un gioco dei ragionieri e il gioco dei contabili che non è il nostro gioco. Questo lo fanno loro e il loro mestiere, devono farlo loro. Però, detto questo, se il Milan dice vabbè, io vendendo Borini, vendendo Piontek, vendendo questo, vendendo quest'altro, raccimolo quel bottino per dire che ho una plus valenza o non ho fatto minus valenza, rientro nei canoni, eccetera, eccetera, il Milan in Europa ci va. E se il Milan va in Europa, Europa League, dopo è a 10 punti dalla Champions, sono tanti, sono tanti, 10 punti, sono tanti, però, per una pazzia, se ne vinci 5, 6, 7, si incomincia a avvicinarti a 4 punti. Ma adesso parliamo di Europa League. Se il Milan arriva in Europa League, comunque sia, sì, non è il Milan stellare delle, chissà come si presenta in Europa, però, il Manchester United è in Europa League, l'Ajax è in Europa League. Oggi come oggi, l'Inter è in Europa League. Che altre squadre forti ci sono in Europa League? Gli altri anni c'è stato il Borussia Dortmund è in Europa League. Le squadre che non vanno in Europa League sono sempre le solite, Real Madrid, Barcellona, per adesso il Liverpool, però essere in Europa League non è più come una volta e ha un suo peso anche, quindi bene o male acchiappare quel treno per il Milan è più che importante. Il punto, lo ripeto anche adesso, a livello di calcio, a livello di classifica, a livello di serie A, a livello di punti, il Milan c'è tutto. Cioè, il Milan è in pienissima lotta per l'Europa, ma pienissima lotta per l'Europa e siccome sta correndo, secondo me è anche favorito per l'Europa, per arrivare in Europa. La Champions è davvero difficile, ma l'Europa League è possibilissima, punto, a cui stare attenti e questo non ho idea, io non so, non è una retorica che io so la risposta e dico, ah, no, no, non so neanche io la risposta, il punto è di andare a vedere un attimino com'è messo il bilancio, ma non sta a noi, sta a quelli del Milan all'interno di dire, sì, va bene, se ci qualifichiamo al sesto posto possiamo andare in Europa senza problemi, riduciamo un po' di qua, riduciamo un po' di là, magari, magari ci togliamo Donnarumma e ci dà 70 milioni qualcuno, 60, sono questioni, sono questioni economiche che il Milan deve risolvere, ma a prescindere da questo, ieri il Milan ha fatto un balzo in avanti nella considerazione e tutto, enorme, ragazzi, enorme, io vi dico una cosa, da oggi, e da oggi e specialmente da domani, si parlerà diversamente di questo campionato del Milan, si parlerà diversamente anche perché arrivano partite abbastanza facili, Milan-Udinese, ci sono partite facili, Milan-Genova in casa, non mi ricordo qual'era la seconda del Milan, dovrebbe essere Verona, ci sono squadre, non sono squadroni, quindi il Milan può resimolare quei punti. detto questo, ritornando al punto principale, punto iniziale, era appunto quello di Roma-Juventus, Roma-Juventus, il risultato di Roma-Juventus ci dirà non tanto, ma ci dirà tutto per quanto riguarda il campionato, dove e dove saremo a questo punto della stagione, ci dirà tantissimo, ragazzi. Detto questo, Instagram, mi fa piacere, se vi volete, mi volete seguire in Instagram, stavo pensando a fare una diretta, il giovedì sera, eccetera, incomincerò a martellarvi un po', a capire un attimino se siete d'accordo o no, invece debba avere una diretta con voi, ragazzi. Detto tutto, buona domenica, ci andiamo a vedere Roma-Juventus stasera. Ciao, ciao, ciao.